Alla fine dell'anno si fanno sempre i bilanci e si comincia a pensare a come sarà l'anno che verrà, in questo caso il 2022. Dobbiamo dire che il 2021 si caratterizza per essere stato l'anno della disinformazione, l'anno della disinformazione durante una pandemia. Il rapporto del Censis ha fornito una fotografia chiara di questo fenomeno. Per il 49,7% degli italiani la comunicazione dei media sull'epidemia sanitaria è stata confusa, per il 39,5% ansiogena, per il 34,7% eccessiva, solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata. Ma le fake news hanno rappresentato sicuramente il grande nemico della credibilità dei media, il motore della post-verità e possiamo dire, senza temere di essere smentiti, che non si tratta di fenomeni a carattere episodico o casuali, ma si tratta di cose sistematiche. Le notizie false, la disinformazione, come l'uso strumentane e manipolatorio dell'informazione per andare a fare una specifica narrazione, per far vedere una precisa visione del mondo. Quindi disinformazione come informazione senza alcuna attinenza al reale, ma con l'intento manipolatorio. Si vanno a sfruttare i flussi informativi per fare confusione nella rete. Ma se la confusione, la bulimia comunicativa ha colpito tutti, il web rimane sicuramente l'ambiente privilegiato in cui si sono prodotte e sviluppate disinformazione e notizie false. 29 milioni di italiani hanno dichiarato al Censys che la situazione di emergenza sanitaria li ha visti imbattersi in notizie che poi si sono rivelate false o sbagliate. Ecco, deve cambiare completamente il clima. E dobbiamo pensare ad un 2022 dove la verità, l'etica, possano vincere rispetto a questa situazione in cui le fake news hanno dominato le nostre vite.